La passeggiata sonora, così come la intendeva Schaffer, è un'occasione unica anche per vivere delle intuizioni, delle percezioni, delle emozioni a contatto con la natura che generano delle reazioni cognitive che possono cambiare a seconda del nostro movimento nello spazio e a seconda delle ore della giornata, che sia notte o giorno, ma soprattutto a seconda del nostro stato d'animo. Grazie. 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 Grazie.